10 minuti prima di entrare in campo tolgo la testa a china, cerco il massimo della concentrazione, poi l'allenatore mi dice le ultime cose, già le so, me le ha detto 100 volte, le ho pensate mille, poi c'è il rito, ogni squadra è il suo, un urlo forte e siamo pronti. No one wants to beat it, beat it, sure we're hot, fucking, control the show, fight it, it doesn't matter who's wrong, right? Just beat it, beat it, beat it, beat it, beat it, sure we're hot, fucking, control the show, fight it, it doesn't matter who's wrong, right? Just beat it, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.